Quello che vedete qui è il grafico dello stock to flow di Bitcoin ricalcolato da me a partire dall'alving dell'anno scorso, cioè maggio 2020, fino ad oggi. In arancione vedete la banda di oscillazione giornaliera del prezzo di Bitcoin, in blu c'è la linea dello stock to flow originale, quella calcolata da plan B, mentre invece in marrone c'è la linea dello stock to flow ricalcolato da me. Ricordatevi che l'unica differenza tra la linea blu e quella marrone è che la linea blu punta ai 100.000 dollari a fine agosto, la mia invece punta ai 100.000 dollari a fine dicembre. Ebbene, siamo in questo momento, ovvero in un momento in cui il prezzo dopo essere sceso sta risalendo. Ci sono due cose interessanti che ci dice questo grafico. La prima è che quello che sta avvenendo quest'anno, cioè a partire da circa la seconda metà di maggio fino praticamente all'altro giorno, cioè al 20 di luglio, con poi un rimbalzo verso l'alto, e simile per certi versi a quello che capitò l'anno scorso, più o meno nello stesso periodo, cioè a partire da fine maggio per arrivare fino a fine luglio. Ebbene, l'anno scorso il prezzo di Bitcoin dopo essere sceso recuperò facilmente e velocemente la linea dello stock to flow, o andando qui in questo punto a reintercettarla, questo punto era il 2 di agosto. L'accusa curiosa è che anche l'anno scorso questa fase di lateralizzazione discendente, diciamo così, si concluse il 20 luglio e il 21 luglio iniziò il rimbalzo. Anche quest'anno il rimbalzo è iniziato il 21 luglio. La seconda cosa interessante è questa, questo è lo stesso grafico di prima, però preso a partire da inizio anno, dal 2021, perché si vede un po' meglio, un po' più zoomato, diciamo così. La seconda cosa interessante è che se questa parabola ascendente facesse come l'anno scorso, quindi riandasse ad intercettare la linea dello stock to flow ai primi di agosto, ebbene quello sarebbe un punto di prezzo, un livello un po' superiore ai 50.000 dollari. Tra l'altro, riprendendo il grafico a partire dall'anno scorso, scopriamo che per bene tre volte il prezzo di Bitcoin ha rimbalzato, diciamo così, sulla linea dello stock to flow marrone. La prima qua, cioè il 2 di agosto dell'anno scorso, la seconda qua, ci troviamo circa a dicembre dell'anno scorso, anche se qua rimbalzò due volte, la prima volta a novembre, fine novembre, la seconda a inizio dicembre. Poi passò direttamente sullo stock to flow blu di plan B a partire da gennaio, questa fu una vera e propria bolla speculativa temporanea, e quando tornò giù, nella seconda metà di maggio del 2021, andò di nuovo a rimbalzare una volta su questa linea, quando il 27 di maggio toccò i 41.000 dollari dall'epoca e risceso, e adesso, nel caso in cui dovesse tornare a toccare momentaneamente questa linea marrone, qua siamo attorno ai 52-53.000 dollari. Ora, io non so dirvi se ciò accadrà, quello che però vi so dire è che, se replicherà più o meno lo stesso trend dell'anno scorso, questo è il livello da tenere in considerazione, perché in questo momento la mia linea dello stock to flow, su cui il prezzo ha già rimbalzato tre volte, indicherebbe un potenziale nuovo rimbalzo verso il basso, qualora il prezzo riuscisse ad arrivare nei primi giorni di agosto attorno a quota 52.000-53.000 dollari. Ci sono però ancora un paio di cose da dire, la prima è questa, quest'anno la discesa è stata più netta e più forte rispetto all'anno scorso, dove in realtà non era propriamente disceso, aveva lateralizzato leggermente in discesa, quest'anno è sceso di più, quindi fa più fatica a recuperare, e la seconda cosa è che il 29 del luglio dell'anno scorso, quindi praticamente esattamente un anno fa, eravamo qua, quindi poco più sotto la linea marrone, adesso invece siamo qua ancora decisamente sotto. Quindi può darsi che, sebbene anche quest'anno il rimbalzo, la possibile inversione di tendenza sia avvenuta il 21 luglio, potrebbe volerci più tempo prima che il prezzo torni a toccare in qualche modo la linea dello stock to flow. Io direi che potremmo attendere circa una decina di giorni, massimo due settimane, per andare a verificare se ciò è successo oppure no, perché se non sarà successo, allora forse questo modello non descrive più bene il comportamento del prezzo di Bitcoin. Quindi staremo a vedere e ci aggiorniamo nelle prossime settimane per capire se il modello stock to flow ricalcolato da me regge, regge ancora, oppure se a causa di quello che è successo tra maggio e giugno non regge più. Poi, se volete sapere in tempo reale come vanno queste dinamiche, vi consiglio di iscrivervi al mio gruppo Facebook Bitcoin Italia Aperto e Senza Scam, di cui metto il link in descrizione, in cui parliamo di queste cose appena avvengono. Un saluto, ciao! Ciao!